La molecola dell'NAD è piuttosto complessa, per cui viene visualizzata solo come struttura. Le dimensioni degli atomi di idrogeno nella sua forma ridotta non sono in proporzione con il resto della molecola. In realtà sarebbero molto più piccoli. Nella fermentazione lattica, l'acido piruvico prodotto dalla glicolisi viene ridotto ad acido lattico utilizzando una molecola di NADH.